Per effetto proprio dell'azione del governo, per esempio la riduzione dell'IRAP, per esempio l'incentivo sulla ricerca per il credito d'imposta, il superammortamento per gli investimenti, l'iperammortamento per gli investimenti di carattere digitale, sta comportando, siccome sono in vigore da parecchi anni, da due anni questi interventi, sta comportando che le aziende più virtuose, cioè quelle che effettivamente hanno utilizzato questi incentivi in maniera dinamica, in maniera forte, facendo tanti investimenti, facendo tanta ricerca, facendo anche possibilità di adentrarsi nell'economia digitale, diventano aziende che sostanzialmente sono nelle condizioni di aver assorbito tutto il loro carico fiscale, quindi di non pagare imposte perché usando e facendo tanti investimenti possono usare questi incentivi. È un segnale questo che per tutta l'economia, per tutte le nostre aziende grandi e piccole, dovrebbe essere preso molto molto sul serio perché appunto quando si parla di usare la leva fiscale per favorire lo sviluppo, questo è un esempio di come può funzionare nell'interesse sia del Paese, perché ci sono gli investimenti, quindi si crea lavoro, sia delle imprese che hanno un carico fiscale molto molto inferiore.